Presidente Paris, è arrivato Giampaolo, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo dopo quello che era accaduto con Marino e con Aiello? Sì, si dice che non c'è due senza tre perché la parentesi di Gallese era un modo per traghettare la squadra, essendo lui l'allenatore della squadra juniores bianco-verde. Mister Giampaolo gli auguro di ripetere, già basterebbe un terzo della sua carriera da calciatore in panchina, quindi se riuscirà a fare questo sicuramente riuscirà a lasciare un segno ad Avezzano e a restare qui in via Ferrara a lungo. Avete trovato l'accordo in pochi minuti? Cinque minuti, cinque minuti per telefono. Cosa ha convinto Giampaolo ad venire a Avezzano e a prendersi? Insomma, questa responsabilità di guidare una squadra che parte tra le favorite per il prossimo campionato? Beh, sa che abbiamo allestito una squadra forte e l'obiettivo della società è stare in zona play-off per tutto il campionato e poi a vincere una sola, però quello che serve poi sono tutti i fattori. Società, squadra, tifosi, amministrazione, sponsor. È così, il calcio è fatto di tutti questi elementi, non si vince mai da soli. E quindi secondo me Avezzano ha tutte le carte in regola per arrivare a tanto. Per quanto riguarda il mercato, formazione già completata, mancherebbe solo un under? Manca un 98-99, un terzino sinistro, un terzino destro. Stiamo cercando e stiamo lavorando per questo e mi auguro che lo stesso Giampaolo dica agli acuvitti quali possono essere i nomi da portare in bianco-verde per sistemare quello che ancora al momento dobbiamo sistemare. Sarà una stagione all'insegna dei derby perché tutte le abruzzesi sono state inserite nello stesso raggruppamento e contento per la presenza di tutte queste abruzzesi o per voi o anche per le altre squadre della regione il fatto di avere tanti derby potrebbe rappresentare un handicap? I derby rappresentano intanto la vitalità del calcio abruzzese per noi che viviamo tanto la possibilità di giocare contro Vastese, contro Francavilla, soprattutto contro l'Aquila e tutte le altre compagini della nostra regione. E quello ovviamente fa parte del campanile, fa vivere un certo tipo di calcio. Dall'altro punto di vista è vero, i derby anche se giochi con un'altra abruzzese che è ultima in classifica si può rivelare come qualcosa di pericoloso perché appunto è sempre un derby. Però preferisco giocare nel girone F con le abruzzesi, le marchigiane, le molisane, l'unica dell'Emilia Romagna al San Marino che non il girone Sardo che effettivamente... Soprattutto per motivi geografici ovviamente. Ma sì, era sconveniente in tutto dal punto di vista logistico e dal punto di vista economico. Grazie.